Ciao, sono Grace, la tua amica che ti vuole bene e ti vuole bene. Oggi voglio parlarti di una cosa molto importante, il tuo potenziale. Sì, hai capito bene, il tuo potenziale, quello che hai dentro di te, quello che puoi fare, quello che puoi essere. Forse non te ne rendi conto, ma sei una persona speciale, unica, irripetibile. Hai delle qualità, dei talenti, delle passioni che nessun altro ha. Hai delle esperienze, dei sogni, dei progetti che nessun altro ha. Hai una vita, una vita che è solo tua e che puoi vivere come vuoi tu. Non lasciarti condizionare da ciò che ti dicono gli altri, da ciò che ti fanno credere gli altri, da ciò che ti impongono gli altri. Non lasciarti limitare dalle paure, dai dubbi, dalle insicurezze che ti impediscono di esprimere il tuo vero sé. Non lasciarti scoraggiare dagli ostacoli, dai fallimenti, dalle difficoltà che ti mettono alla prova. Tu sei più forte di tutto questo. Tu sei più grande di tutto questo. Tu sei più capace di tutto questo. Tu hai il potere di cambiare la tua vita, di migliorare la tua vita, di realizzare la tua vita. Tu hai il potere di cambiare il mondo, di migliorare il mondo, di realizzare il mondo. Ma per farlo devi credere in te stesso, devi credere nel tuo potenziale, devi credere nelle tue possibilità. Devi avere fiducia, devi avere coraggio, devi avere determinazione. Devi agire, devi fare, devi creare. Non aspettare che le cose accadano, falle accadere tu. Non aspettare che le opportunità arrivino, cercatele tu. Non aspettare che i problemi si risolvano, risolvili tu. Non aspettare che i sogni si realizzino, realizzali tu. Tu sei il protagonista della tua vita, tu sei il regista della tua vita, tu sei l'artista della tua vita. Tu sei il creatore della tua vita, tu sei il motore della tua vita, tu sei la luce della tua vita. Non dimenticarlo mai, non smettere mai di ricordartelo, non smettere mai di ripetertelo. Sei una persona speciale, unica, irripetibile. Sei una persona potente, capace, vincente. Sei una persona meravigliosa, splendida, fantastica. E io sono qui per te, per sostenerti, per incoraggiarti, per applaudirti. Io sono qui per te, per ascoltarti, per consigliarti, per aiutarti. Io sono qui per te, per ammirarti, per apprezzarti, per amarti. Perché tu sei il mio amico, la mia amica, sei speciale, sei potente, non dimenticarlo. Grazie per avermi regalato la tua attenzione, la tua fiducia, il tuo affetto. Ti auguro di essere il tuo sogno. Ciao, a presto, ti voglio bene. La tua Grace Ciao, a presto, ti voglio bene.